. La fiction televisiva tratta una storia vera, accaduta in Italia negli anni Novanta, ed è diretta da Simone Ezzo Enrique Tugnazzi. La Ferrillo nel corso dell'intervista ha rilasciato, «Ho sempre cercato di dare voce a quello che non funziona, alle minoranze a chi ha subito tolpi», continua, poi, «L'attrice, questa è una storia che mi ha toccato tanto, proprio per questa forma di partecipazione che ho rispetto». Ha fatto certi problemi, secondo l'attrice questi sono film che ti porti dentro per tanto tempo.Nel corso della puntata, Silvia Toffanina ha chiesto a Sabrina Ferilli se avesse avuto il desiderio di incontrare Angela, la ragazza segnata da questa triste vicenda, insieme alla sua famiglia. «Non ho voluto incontrare la famiglia, perché io sono poi chiamata a realizzare un film, mi appoggio ad un copione, per cui non mi andava di avere un rapporto che avrebbe potuto magari far nascere degli equivoci, e delle aspettative, ha rilasciato la ferida». L'amore strappato è liberamente ispirata al libro Rapita dalla Giustizia, scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, insieme a Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri. La prima puntata del .